Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, praticamente oggi è da tanto che non mi vedete perché ho fatto tanti video su lui, questo, vabbè non so se lo vedete e ora continuo a fare dei video su di lui perché lo farò delle nuove versioni e ho fatto tanti cambiamenti della mia camera, adesso ve li mostro Allora questa è la mia camera, ci vuole solo magari riordinare la scrivania, per il resto è a posto, qui magari opererò ancora su quello così farò nuove versioni Questo era praticamente solo un video update per mostrarvi un attimo cosa avevo fatto, un altro video vi mostrerò là perché siccome il mio telefono è scarico e in carica e non vi posso mostrare tutto Allora ragazzi per questo video update è tutto, ci vedremo in un prossimo video, ciao Grazie